Salve a tutti ragazzi, sono PepegioGamers e siamo dove eravamo rimasti l'ultima volta su Minecraft, che noi eravamo rimasti proprio in quella casetta lì quella lì, guardate quella lì, che però io mi sono allontanato perché era esploso da quell'altra parte, quindi non potevo più rimanere, erano entrati troppi zombie, quindi mi sono allontanato dalla zona, mi ero fatto un piccolo tubo qui sotto e sono rimasto lì per tutta la notte comunque ragazzi io devo dire anche che siamo arrivati al villaggio e ragazzi, una buona notizia tra poco mi arriveranno cioè, no, mi arriverà anche la nuova presetta per le cuffie in modo che le cuffie si sentiranno meglio meglio, cioè la mia voce si sentirà meglio perché adesso il volume del gioco per ora sovrasta la mia voce però con queste altre cuffie o dovrebbe essere pari 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 o la mia voce sovrasta quella del gioco comunque ragazzi sicuramente si sentirà meglio io infatti per fare i video devo urlare abbastanza quindi a volte io li vorrei fare la mattina i video la sera però non posso perché poi i miei nonni la mattina dormono poi anche io mi sveglio abbastanza tardi poi perché se tipo mi sveglio presto tutti dormono anche i vicini di sotto e questo è ragazzi quindi non posso non posso fare un cavolo diciamo quindi le faccio la sera quando non c'è nessuno e mio padre si mette fuori con il telefono così sulla sdraio poi a volte capiterà che li metterò di pomeriggio perché a volte no supero di villaggio me ne sono neanche accorto può capitare che li farò anche di pomeriggio quando i miei nonni andranno a prendersi il sole direte come il sole è il sole no non è entrato dentro la mia allora ragazzi ci siamo ci siamo direi di posare tutto qui e però direi di fare un attimo una cosetta non so qui ce ne rimaniamo deve fare un attimo una cosetta molto importante che sarebbe se lo troviamo no non c'è voglio vedere se c'è ah si 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 c'è 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 questi vanno a me grazie qui dentro non c'era niente no non c'era niente grazie grazie questi ti vanno a me e poi direi di prenderci e basta non ci vediamo più niente comunque ragazzi io a dire la verità stasera è tardi quindi perché la domenica di solito esco no non c'è quindi direi durante le giornate farò due o tre due o tre video però poi quando che ancora deve crescere quando tipo è verso la domenica le farò di meno abbiamo del grano a mettere qui poi direi ragazzi di andare fare solo una scavatella così sotto c'è una proprio piccola scavatella intanto siamo privi di mangiare qui come cavolo passava che può vivere ok ci siamo guastati l'ho mangiato carne guasta quella degli zombie quindi per questo vediamo tanti pallini quindi noi aspetto sbaglio o ho visto si infatti ho visto bene del ferro ok ragazzi poi ragazzi oh cavolo direi di a volte per esempio chi c'ha la ps4 attenzione farò a volte delle live delle live su per esempio o gta o anche vabbè minecraft non la posso fare perché un attimo che vi spiego minecraft per il per il eh come si chiama per aprire il ps ps si non si può giocare online si può giocare però solo nel mondo proprio come il computer se andiamo a prendere le nostre cosette dobbiamo mangiare no te lo puoi tenere allora ragazzi quindi direi la domenica di fare un video e poi nei giorni così settimanali due o tre quanto ferro poi dato che mi sono preso la fornace le possiamo mettere anche a cuocere e andiamo di qui qui non c'è niente no c'è qualcosa benissimo oh attenzione attenzione ora adesso direi di mettere un attimo pausa devo fare un attimo una cosa allora impostazioni audio la musica effetti direi di metterli a 90% forse sentirete meglio però non lo so comunque se sentite meglio scrivetelo nei commenti vabbè poi vado a vedere io il video non vi scomodate scriverlo questo video raga è stato solo così per fare un attimo la nostra ricomparsa di tornare a casa perché altra volta mi ero totalmente scordato totalmente scordato che dove eravamo noi noi si trovavamo nella nostra casetta intanto ragazzi volevo parlare un attimo di una cosa che ho sentito parlare ho sentito anche dire in pratica tra poco su GTA 5 in pratica faranno i DLC che sarebbero gli aggiornamenti forse dato che io tengo la cassa quella di 500.000 quella la più costosa di GTA vabbè che poi vi farò vedere è molto bella ragazzi molto bella e faranno questo aggiornamento bellissimo che possiamo hanno detto che possiamo in pratica arredare la nostra casa come la vogliamo noi tipo il divano lo possiamo cambiare lo possiamo mettere da un'altra parte della casa possiamo fare varie cose varie cose possiamo fare rompiamo qua qua e vabbè rompiamo qua mettiamo una torcetta qua nella torcetta qua la lascia va bene ragazzi adesso aspettate che cosa c'è qui ah niente nulla pensavo che cosa c'era però non c'è nulla quindi possiamo ritornare indietro poi ragazzi qui metterò un bordello di porte in questo modo così ci passeremo la prossima volta ci passeremo la prossima volta mettiamo dei così accorgiamo adesso sicuramente mi ricorderò consumiamo quest'ultima torcetta la mettiamo da qualche parte qui così non spawnano mostri e roba vario quindi ragazzi adesso metto anche del pietrusco qua così per fare tipo faccio una mini freccia così vediamo un attimo qui qua e qua ragazzi diciamo che è una freccia no vero no pare un pene cioè vabbè leviamo tutto comunque metterò una cosa del genere qua così 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 mi ricordo così appena ci passerò comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel suo like iscrivetevi al canale se vi volete iscrivere lasciate un commento consigliatemi dei giochi condividete il video su facebook dove lo volete voi e da Pepe Giochimers è tutto per questo video al prossimo video adio